Benvenuti in un nuovo video! Oggi siamo qui per provare un po' di prodotti nuovi Questo qui è un mix Degusta Box, Sweet Ben e Jerry America Quindi direi di iniziare subito Iniziamo subito Kit Kat Caramel Salted Caramel Kit Kat No, Caramel Edizione limitata Vediamo un po', questo preso da Sweet Ben Esatto Come si sente il caramello? Guardate com'è Un po' di effetto marble Guarda, senti tantissimo il caramello Sì Ah, ho visto No, e tu ce l'hai il caramello? Sì, ce l'ho Fizioso Non è pesante Mi senti proprio quel vero gusto di caramello Venga Wow Buonissimo Molto particolare Elicato però Penso se fosse stato un Salted Caramel Ottimo Si è sposato addio Ricordi quello che ci piaceva, quello grande Con i popcorno, com'era? Ma non lo volevo Che ti è dato il popcorno? Buonissimo Veramente buono Questo ha anche questo molto buono Sette e mezzo Sette e mezzo, anche otto per me Ci sa Una cosa molto semplice Che non proviamo da un po' di tempo Esatto Reeses fast break Milk Milk, chocolate, peanut, butter e nougat Ok Ecco, madame A me invece quello là tutto, tipo, da raggi Mamma mia E anche quello bianco, com'era buono Mi ricorda il Lion Perché tiene il biscotto sotto Va tutto morbido Non sento il crunchy Mi aspettavo una parte Non ho noto differenza con gli stessi Mi aspettavo una parte biscottosa Però buono Però non buonissimo Cioè non Da ricomprare Mi aspettavo qualcosa di crunchy Sarebbe stato perfetto Il sale è buono Ad essere buono È buono però Però Non ha più il retro gusto Di prima Di una volta Sicuramente mi è diventato proprio A parte che va tutto morbido Però Mi piaceva più il tortino Che era più Sì, no, è più particolare Quello rispetto a questo Se questo avessero fatto Una base più croccante Sarebbe stato pazzesco Ottimo Però È sempre buono Non si smettisce mai Un bel 6, 6 e mezzo Ci sta Io sono un amante degli Orochoc Per me sono i biscotti preferiti Sono buoni Allora Faccio questo No, aspetta No, aspetta Fai un po' di rimorso da me No, no Ci sta Vai Vai E' sguagliato un po' di rimorso da me Sguagliato un po' E' un po' di rimorso da me Ma è il biscotto sotto Ma è il biscotto sotto pure Ma mamma mia E' un amore incondizionato E' un amore incondizionato Il olore ciocco Non l'avrei preferito più Però sai che cos'è? Che se lo fai troppo spesso Cioè troppo È il duro Quando poi Il secondo me si stacca No, si può staccare Oltre Però solo che si può staccare Nel mangiarlo Non lo so Questo è uno di quelli che dici Non ho capito Però è un altro Però è pure l'ho tentata Però no Meglio di no Andiamo avanti Voto 8 8 Ci sta Perché comunque Non è una novità Però Sempre molto buono Cioè è una novità Però Piaciuta Granchio Granchio Leis Leis Scusate Ma no Mi sembrava qualcosa Però si sente di granchio Ci siamo proprio Tu non ti devi permettere Mentre di comprare Queste cose a prendere Noi ti so Piaciuta Non muoveremo Vai Questa è proprio La vigilia di Natale Ma Però Allora Già meglio Queste Rispetto A quelle Calamaro Qua già si sente Il sapore Però io non le riproverei Perché a me Non piace Questo granchio Però Si sente Già mi sono scortate Gli occhiali Buono Questa sembra un po' Non lo so Ma qualche piatto Che si mangia Alla vigilia Proprio un misto Proprio di quando scendi E c'è stato tutto Che l'ha visto Tipo la cosa Di rinforzo Blah 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 Con i bro Con i capolfiori Tutto Proprio un mix Di tutto Mamma mia Vedi che di attrazione Allora Alla fine il gusto rispecchia Però Io non la ripro Si sente Proprio Però non mi dà Quella sensazione Odio Si sente Il granchio Però si sente Che cresce Sì Voto Cinque Ma perché Non ti è piaciuto Cioè perché Non Tu le cinque Ultimo Ultimo Ma io ho paura Lace Aletta Di polvo Aletta Di polvo Comunque Marinare Mi piace Questo Formato Di polvo Wow Mi è sciuto Vedi quante ce ne stanno Dentro Brodo Brodo Oggi brodo Oggi brodo Oggi brodo Brodo Vai L'utine Però Pollo Pollo Brodo Vegetale Eh Era buone Voleva C'è proprio brodo Come quel brodo Vegetale Pollo L'aroma Del pollo Sette Picca 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 piccaciu Però buoni Quindi Questo è stato il nostro video assaggio Speriamo 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 Che questo video Vi sia piaciuto E ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao